Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova partita dove si andrà a affrontare il Manchester United contro Liverpool diretta dall'Hall Trafford, ovviamente qua possiamo vedere gli allenatori che si andranno a affrontare Mourinho contro, non conosco purtroppo il nome dell'altro allenatore anche se è molto famoso, io sono un ignorante Sì, bravo, bravo Cominciamo subito la partita senza perdere tempo Sempre molto felice, vedo Perdere troppo tempo Solite cose, leggenda 8 minuti e si va a vedere come finirà realmente la partita e cosa dice invece finirà Come abbiamo potuto vedere ho visto un video dove diceva qual è la differenza tra il calcio, tra la Premier e la Serie A e ovviamente tutti hanno risposto la velocità è molto più dinamico la Premier League in effetti si fanno molto più azioni, molti più tiri anche meno, poco di conclusione Intanto Slata subito prova il tiro Mamma mia che occasione per il Manchester United Poteva darla anche a Pogba invece ha detto proviamo a darla a Slata che purtroppo ha tirato una canonata fucilata e è andata fuori con lui Buon controllo palla Manet si sposta prova per Coutinho non ha visto il movimento di Manet peccato Pogba si riprende subito per Herrera Herrera passaggio sempre per Slatani Bravimoci che prova il tiro molto, molto, molto male devo dire questa conclusione Slatani fisico difende la palla devi vedere un attimo i suoi compagni qua fallo, viene spinto Windeldon, Windeldon, Coutinho dove cazzo è andato? mi spiegate? il Liverpool ottima occasione grandissimo gioco grandissimo giro di palla è ottima occasione non c'è niente da fare il Liverpool sta giocando molto di più sulle azioni pericolose mentre il Manchester United sta andando cioè scusate il Liverpool sta giocando molto di più con i passaggi quindi dominio palla mentre Manchester United vuole subito concludere qualcosa intanto Miller qua si sposta lateralmente prova il passaggio sempre Miller ottima parata di De Gea che parte subito in velocità vuole vedere Martial l'ha visto? invece no niente prova da solo fa partire totalmente la squadra da solo per Martial show viene rallentato un attimo non ha più fiato passaggio per Pogba vediamo cosa riesce a creare Martial 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 o Martial come devo pronunciarlo non lo so tacco bisogna vedere Herrera passaggio per Valencia prova il cross in mezzo fantastico questo morbido di Valencia nessuno purtroppo è riuscito a raggiungerlo Mkhitaryan prova il passaggio Zlatan tutto solo incredibile tiro parata però fantastica incredibile Zlatan guardate ha fatto un pallonetto il portiere sveglio pronto ottima parata più attacco e più occasioni per il nostro Manchester United come potremmo dire tre tiri e due tiri in porta il possesso palla è stato ovviamente il Manchester United sta dominando un po' questa partita come abbiamo potuto vedere la precisione dei tiri invece per forza Liverpool ha fatto un tiro ed è arrivato in porta mentre la precisione dei passaggi è molto più elevata del Manchester United andiamo subito nel secondo tempo vediamo se ci saranno qualche cambio se i nostri allenatori diranno di fare qualche cambio se no rimarremo uguali termino clean di nuovo lui passaggio per l'Allana vediamo se riesce a concludere tiro di sinistro di l'Allana momento pericoloso Liverpool subito all'attacco guardate qua lo scambio il gioco ragazzi fantastico tiro conclusione purtroppo fuori però ottima ma ottima occasione intanto Zlatan prova a liberarsi per Herrera prova il tiro Mignolet parata fantastica questa parata fantastica anche l'azione veramente del Manchester United che Zlatan si è liberato ha spostato direttamente prova il tiro invece qua reazione incredibile svelto questo portiere riuscito a leggere il tiro a metterci la manina e salvare intanto Mkhitaryan prova il cross in mezzo sempre centrale sempre degli avversari come qua Smalling Smalling si sposta niente Martial prova il la corsa clean ottimo Zlatan Ibrahimović di nuovo Mignolet contro Zlatan Ibrahimović ma lui riesce a resistere incredibile anche questa parata fantastica ragazzi veramente reattivo questo portiere che azione che azione che tiro che parata Zlatan contro Mignolet unica partita ritornata vediamo se lo butta di nuovo centralmente c'è Zlatan Ibrahimović prova il passaggio incredibile come si è infiltrato passaggio rapido prima o poi un errore lo farà Liverpool adesso lo vedremo forse riusciranno anche a segnare non lo so come abbiamo potuto vedere nelle scorse partite anche chi ha poche azioni può avere un'occasione e segnare subito quello è premere un campionato strano può succedere di tutto guardate cosa ho detto cosa ho detto passaggio centrale è rete di Mané che si è infiltrato all'ultimo anticipato se non sbaglio non so precisamente che anticipato comunque passaggio filtrante veloce da parte di Mané che si infila lì e riesce a anticipare show ragazzi incredibile va nel coso del Liverpool va nel coso del Manchester United a guardare a esultare davanti a Mourinho che rosica questo rosica vediamo se riuscirà a fare qua se riuscirà a cambiare i sorti di questa partita più nessuno in attacco invece col contropiede ragazzi prova andato male invece no Starridge subito lui tocca il pallone passaggio per Leivas i nuovi entrati scambiano subito fantastico occasioni per il Manchester United vediamo però si riparda indietro molto pericoloso questo fantastico passaggio per Mkhitaryan che era libero da solo vediamo se fa un cross prova l'ultimo cross salvataggio di Mignolet ottimo io direi che come miglior giocatore qua dobbiamo concludere con Mignolet senza nessun nombro di dubbio perché veramente ha fatto delle parate fantastiche se non merita almeno un 7.5 c'è qualcosa che non va intanto parte palla di Valencia che difende la palla dovrebbe vediamo cosa riesce ad attaccare nulla sempre palla del Liverpool e finisce qua la partita 1-0 per il Liverpool vediamo un attimo le statistiche finali di questa partita i migliori giocatori quali sono stati e successivamente vediamo qua possiamo dire che il Manchester United è stato molto molto più aggressivo ma come abbiamo potuto vedere ragazzi Liverpool ha fatto qualcosa di epico ha fatto tre tiri uno in porta ed è andato subito anche a conclusione la precisione dei passaggi è stata più precisa il Liverpool anche se ha dominato come avete potuto vedere il possesso palla del 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 Manchester United della precisione dei tiri è stata molto più precisa del Manchester United e andiamo sulle valutazioni per vedere i nostri giocatori stato un 6.9 che ha attaccato molto bene anche se ha perso molto ma molto occasione Martiale Pogba 7 e 6,7 meritato Herrera sì uno dei migliori giocatori anche show ragazzi show del Manchester United due uomo partita veramente fantastico veramente bravissimo attaccato dappertutto non è mancato nulla ha avuto più occasione lui Herrera con la sua aggressività ha fatto il meglio mentre andiamo dall'altra parte che Mignolet dovrebbe essere uno dei uomini partita punto 7 punto 5 meritatissimo per questo fantastico giocatore Firminio che ha fatto un'ottima partita la difesa non possiamo dire nulla anzi sono stati molto ma molto bravi del Liverpool meritata possiamo dirla così così a parte del Liverpool però cosa possiamo altro aspettare questa è stata la partita spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like secondo voi finirà veramente così lo scopriremo bello a